Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video Stamattina quando mi sono svegliato la situazione era questa Non sapevo neanche da che parte ero girato e che cosa editare, che cosa portare per voi ragazzi Alla fine ho chiesto l'aiuto da casa e ho scoperto di avere un fratello gemello ragazzi Ma perché non porti un fanny glitch? Porta un fanny glitch, riposta i video vecchi, assolutamente Semplice no? Va bene raga Quindi ragazzi io partirai subito da questo che è veramente una figata Allora tutti questi fanny glitch raga esistono da quando è uscito il gioco E Rockstar non l'ha mai patchato, non gliene è mai fregato un cazzo Quindi dobbiamo essere all'interno del CEO di un nostro amico come state guardando E una volta che siamo all'interno del CEO gli dite di prendere ragazzi una bomba adesiva E di metterla sul cofano al nostro amico, al capo del CEO A questo punto saliamo su un'auto di un civile ragazzi, ancora chiusa da rubare Quindi spacchiamo il vetro E appena siamo sul lato passeggero Boom! Gli diciamo al nostro amico di far esplodere la bomba E noi in questa maniera raga E sbada bam Potremmo guidare le auto distrutte Allora questo qua è un fanny glitch È una stronzata Ma funziona da 10 anni ragazzi È una cosa assurda È divertentissimo per cazzeggiare Fare magari delle clip chissà per quale cosa Per quale motivo eccetera eccetera Purtroppo non possiamo guidare in eterno E dopo un po' la macchina si fermerà Quindi io passerei raga al prossimo fanny glitch Questa è la posizione ragazzi Giù all'aeroporto È divertentissimo Veramente una stronzata Gli dite al vostro amico di salire su questa scaletta E poi noi raga con una moto Ce lo possiamo portare in giro raga Perché si incollerà praticamente alla moto Dobbiamo andare piano Perché se no raga Lo praticamente facciamo cadere Però è veramente Veramente una gran stronzata questa Infatti se poi voi praticamente Quando siete nell'aria Provate a salire raga La scala vi teleporterà subito sulla scala È una cosa assurda Io adesso raga passerei al terzo Che non è proprio un fanny glitch Questa è la posizione raga E diciamo che è un wall bridge Come ben sapete GTA 5 Los Santos È piena di wall bridge Piena di punti Dove si può entrare E andare sotto mappa Però questo raga Esiste da dieci anni Quindi io non mi compacito Come Rockstar Ancora lascia queste cose Perché se noi andremo in questo punto Andremo a scavalcare Sbada Bam raga Entreremo all'interno Di questo barcone Del rimorchiatore Allora Perché vi sto facendo vedere questo glitch Perché è una cosa assurda Perché noi Una volta che siamo all'interno Del barcone raga Del rimorchiatore Potremmo sparare alla gente fuori Ok Potremmo agganciare I laser Magari qualcuno che vola Qualcuno che passa E non conosce Il wall bridge Ci vuole venirci a killare Qua saremo praticamente Al sicuro Quindi ragazzi Io passerei Al prossimo Ci troviamo In questo punto Della mappa Raga Siamo sempre qua Dalle parti Del porto Del Deli porto Del Degli hangar Allora Conosciamo tutti Queste rampe Qua nere Se noi ci mettiamo In questa posizione Raga E iniziamo a correre Dritti Succederà questo E sbada Bam È una cosa Oscena Raga Davvero Questi qua sono bug Che non dovrebbero Esistere dopo dieci anni Di gioco Cioè All'inizio erano divertenti Ma ora Sì che sono divertenti Lo stesso Ma dai raga Dopo dieci anni Di gioco Ancora questi bug Comunque sia Io adesso Passerei Al prossimo Ragazzi Questa ragazzi È la prossima posizione Qua Dal molo Anche questo È un wall bridge Che esiste Da dieci anni Allora Questo video Secondo me Potrò fare Un paragone Wall bridge Dieci anni prima Dieci anni dopo Una cosa del genere Funzionano tutti Quasi tutti Raga È una cosa assurda Quelli vecchi Vecchi Come questo Funzionano sempre Tutti Quindi prendete un veicolo Come questo Raga E vi dovete andare A sbattere Contro il muro Ma non in questa posizione Ma leggermente più avanti In questa Dove ci sono i tubi Dell'aria Sopra Vi collegate Bene Fate l'amore Con il muro E una volta che siete Sul tetto Della macchina Potremmo scavalcare Raga E salire Dentro il muro Andare all'interno Del ponte Questo wall bridge Esiste da Sempre E non hanno mai Chiuso questo buco Forse perché Questo wall bridge È mezzo inutile A dire la verità Perché non possiamo Sparare all'esterno Sì siamo praticamente Nascosti Ma se ci sparano Un razzo L'onda d'urto Ci uccide Lo stesso Quindi io passerei Al prossimo Raga Questo è l'ultimo Questa è la posizione Una volta che siamo Arrivati qua Cosa facciamo Andiamo a rompere Praticamente La stecca Questa qua Dei parcheggi Raga O la rompete Pezzo per pezzo Se volete essere sicuri Oppure La rompete tutta L'importante Che arrivate In questa situazione Che rimane Solo questo Pezzettino Raga E a questo punto Cosa dobbiamo fare Prendere un pochettino Di rincorsa Neanche troppo Impennare Leggermente Raga E baggarci Tra Il pezzettino E la strada E sbada Bam Raga Io sono finito Addirittura Sottomappa Al primo tentativo Una cosa Assurda Nel secondo tentativo Raga Adesso vi faccio vedere Dove cazzo Sono finito Mi sono messo di nuovo A rompere la stecca Ma a sto giro È andato male qualcosa Perché appena ho toccato La stecca Raga Sbada bam Mi ha lanciato Dentro il muro Che praticamente È il palazzo Che c'è a fianco Sono rimasto Sottomappa E potevo guidare Potevo camminare Raga Perché Perché poi Dopo un po' Che sono andato avanti Ho cercato di capire Dove cazzarola Ero finito Sono finito Sottomappa Dentro Le gallerie Infatti Anche ora Se io entro Esco dalle gallerie Rimango sempre Sottomappa Finchè poi Non sono arrivato A un punto Raga Come state Per vedere Che mi ha fatto uscire Da Dalla metro Proprio C'erano le scale Raga È una cosa Assurda Quindi raga Lasciate un like Se vi è piaciuto Il video Commentate Iscrivetevi Abbonatevi Per avere Dei vantaggi Ragazzi Per avere Subito risposte Se avete Dei dubbi Qualsiasi cosa Potete chiedermelo Rispondo Sempre Gli abbonati Ovviamente Hanno Il diritto Di avere Determinati Video Raga Video del beef Spiegazioni Le aggiunte Delle deluxe In beef Le basi Per fare i flip Dei completi Eccetera Eccetera E arriverà Molto Altro E appena siamo Un bel gruppetto Iniziano i contest Mensili Raga Per gli abbonati Ogni mese Gli abbonati Avranno Un qualcosa Per loro Bella regà Alla prossima Sbada Bam heres Eccetera M숲 Eccetera Lee Sbada Asse